C'è un terremoto in corso per quanto riguarda la situazione ovviamente relativa alla carta segreta che sarebbe spuntata negli ultimi tempi. Voi sapete bene che ovviamente è stata rilasciata la notizia mediante la quale il Tar ha obbligato la FIGC a dare alla Juve la famosa carta, il famoso documento segreto che appunto in generale ragazzi potrebbe ribaltare il caso. Il fatto che ci sia stato da questo punto di vista un documento nascosto dalla FIGC insomma tutto questo già secondo me veramente dà un'occhiata a quello che è lo spirito di questa federazione che da anni prende e poi nel momento in cui deve andare a garantire l'accesso a dei documenti li nega. Quindi la cosa più importante è questa ma c'è un'altra cosa che è veramente molto grave che negli ultimi tempi è uscita fuori cosa gravissima che potrebbe anche questo ribaltare tutto ciò che avete sentito. Perché uno dei punti del ricorso ovviamente presentato dalla Juve al CONI, sapete bene la Juve è andata al CONI, ha presentato un ricorso ufficiale per i 15 punti di penalizzazione che insomma ci sono stati dati in seguito al caso Lusvalense. Nel ricorso si legge una cosa molto grave, una cosa molto importante, una cosa che potrebbe essere decisiva. Si legge che non sono stati rispettati i tempi, ok? Ma c'è anche un'altra cosa relativa a quello che abbiamo sentito con la carta segreta e riguarda ovviamente tutti. Da Cherubini in poi, prima ovviamente di iniziare come al solito ragazzi, come al solito volevo invitarvi ad iscrivervi sempre al canale, ovviamente mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche prima di sempre aggiornata. Mi raccomando è veramente molto molto importante, andate giù ragazzi, c'è scritto iscriviti e poi c'è la campanellina delle notifiche, quindi basterà insomma cliccare e vi troverete appunto dentro il canale, ci avrete delle notifiche e poi ovviamente ricordo che questa cosa è gratuita e vi ricordo anche che ci sono i miei social. Mentre ci sono delle polemiche per quanto riguarda ovviamente ragazzi tempi perché non sono stati rispettati, c'è anche un'altra cosa molto particolare. A testimonianza di come la Juve si stia muovendo in maniera molto calma, ma comunque c'è qualcosa che c'è una strategia dietro. Il documento che ha consentito ovviamente al TAR di obbligare la FIGC a concedere la carta segreta è firmato da Cherubini e da altri ex dirigenti Juve. Questo per quale ragione? Molta gente è venuta da me e mi ha detto, metto scoperto questa cosa, purtroppo ho letto che non è la Juve ad essersi mossa per il TAR, ma sono i dirigenti ad essersi mossi per il TAR. Io vi dico che è essenzialmente una cosa falsa. Cioè, allora, vi devo spiegare una cosa molto importante. Nei regolamenti che la Juventus ha letto c'era scritto che c'era un'opportunità, una possibilità molto remota che il ricorso al TAR e che la manovra al TAR andasse male. Cioè, c'era una possibilità che il TAR dicesse no, la FIGC non deve mostrare i documenti. Dicevo prima che si interrompesse il video che il documento che è stato presentato era firmato dai Rubini e da alcuni dirigenti Juve. Quindi c'era questo documento all'interno del quale i dirigenti della Juve chiedevano giustificazioni e chiedevano un modo per accedere a questi documenti. Ora, ripeto, tanta gente mi ha scritto e mi ha detto, Matt, ma come mai? Insomma, non è stata la Juventus a muoversi, ma sono stati questi dirigenti. È la vera ragione per cui noi non riusciamo ad andare, insomma, di fronte agli organi giuridici. In realtà, io vi dico una cosa, e questa è una cosa che si sa nell'ambiente. La richiesta è stata fatta dai dirigenti Juve per conto della Juve, semplicemente perché, ripeto, c'era una piccola possibilità che il ricorso andasse male. Che questa, non ricorso, ma questa richiesta al Tar di accedere a questi documenti andasse male. E nel, diciamo, poter andare male questa sorta di richiesta, c'era il rischio che se la richiesta fosse andata male, la Juventus, diciamo, avrebbe rischiato altro. Però, diciamo così, dove altro vuol dire che ci sarebbero stati altri punti di penalizzazione. Quindi il motivo per cui sui documenti trovate scritto il nome di Cherubini e di altri dirigenti, non è perché la Juventus non ha chiesto, ma perché la Juventus ha usato il nome di Cherubini e di altri dirigenti per fare questa sorta di, diciamo, di, questa sorta di lettera, ecco, al Tar, all'interno della quale si chiedevano spiegazioni. Perché, se fosse andata male, il Tar non avrebbe potuto comunque attaccare i dirigenti. Quindi i dirigenti non rischiavano nulla nel momento in cui la Juventus, per esempio, mettiamo caso che il Tar, ad esempio, mettiamo caso che il Tar avesse rigettato la richiesta. Ecco, se la rigetta con dei dirigenti di fronte, il dirigente non ha conseguenze. Se invece a rigettare la richiesta si fa con il Tar, quindi si fa contro la Juve, la Juve può essere, diciamo, punita, da questo punto di vista, con altri punti di penalizzazione. Quindi l'unico motivo per cui non trovate scritto il nome dei proprietari o della Juve sui documenti, è per la ragione relativa ai punti. Perché si sta cercando di avere un comportamento diverso. Semplicemente perché si aveva l'opportunità di mandare avanti dei nomi che non avrebbero avuto e si sono mandati avanti questi nomi. Tuttavia, non è questo il discorso principale. Tanta gente mi ha detto, mettete, ma probabilmente tutto questo è una svolta, una paraonda. In realtà è una cosa che voi, se seguite un po' il caso, dovete già sapere. Perché comunque è palese che questa nazione abbia un problema grave. Questo è il paese in cui un organo come la FIGC si permette di nascondere delle carte che potrebbero rappresentare una svolta all'interno del processo. Cioè, ragà, sta cosa è vergognosa, sotto tutti i punti di vista. È vergognosa. Questa cosa è proprio, siamo in un regime quasi politico totalitario. All'interno del quale tu non solo inventi delle norme che non esistono, poi dici che io ho violato, ma anche nel momento in cui puoi andare ad affermare... No, 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 ma guarda, facciamo un discorso anche un po' più semplice e meno articolato. Nell'esatto momento in cui un avvocato ti chiede dei documenti che sono fondamentali per il caso e tu non presenti quei documenti... Cioè, qui siamo veramente a livelli altissimi di... Questo veramente è una cosa gravissima. Io non so neanche come esprimermi da questo punto di vista, perché è la prima volta che vedo che all'interno di un processo qualcuno nega i documenti. Cioè, è la prima volta che vedo che in un processo le persone che fanno richiesta di un documento non vengono considerate. Cioè, noi siamo dovuti andare... Cioè, c'è stato bisogno di fare una lettera al TAR e il TAR ha dovuto guardare, leggere i documenti per poi dire, guarda che i documenti comunque vanno messi nel processo. Perché se noi ci fossimo semplicemente fidati della VGC, quei documenti sarebbero stati ignorati. Cioè, per come la vedo io, è una cosa gravissima, perché tu stai impedendo alle persone che stanno cercando di essere trasparenti, stai impedendo a loro di avere il materiale... Cioè, stai impedendo a loro di... stai letteralmente impedendo il corso del processo. Questo è ostacolo alla legge. Cioè, qui stai ostacolando i processi. Qui non c'è una logica dietro tutto ciò in cui la VGC abbia potuto dire no. Diceva, la VGC ha detto no perché c'è questa ragione. No, la VGC ha detto no perché se la faceva addosso. Ecco perché ha detto no. Ma vi rendete conto, ragazzi, ma in un'epoca civile come la nostra si può non avere la possibilità... Cioè, io devo prendere dei documenti che sono importanti per quello che è il processo. La VGC mi dice no, non li puoi prendere. Cioè, scusami, ma mi sembra veramente una cosa che non ha senso. Poi, se per voi è normale pure quei... perché tanto ci sarà qualche antiguentino che mi dirà che è normale. Mi dirà... ci sarà qualche juventino che mi dirà che è normale. Questa cosa qua. Io veramente faccio fatica a capire il punto. Cioè, vi dico la verità. Faccio fatica a capire davvero il punto. Veramente. Io non ho logica da questo punto di vista. Io personalmente, fossi loro, mi vergognerei sotto tutti i punti di vista. Perché una cosa del genere non si può tollerare. Cioè, una cosa del genere, intesa come procedimento legale, non si può letteralmente tollerare. Ma stiamo scherzando? Cioè, io vengo da te per prendermi dei documenti all'interno dei quali ci sono dei nuovi elementi per il... E tu mi dici che io non posso prendere quei documenti? Cioè, non solo... Poi la figuraccia che ha fatto la vicina, vogliamo parlare, perdonatevi, ma che figura è questa? Questa è una figuraccia enorme. Questa è una figuraccia enorme. È la prima volta che io vedo una schifezza. Questa è ovviamente una cosa che veramente fa cominare. Questa è una cosa disgustosa. Cioè, io capisco tutto. Capisco che voi siate con le mutande già in mano, pronti per cambiarvele. Capisco tutto quello che volete. Ma qui veramente si parla di ostacolare la giustizia. Qui si parla di ostacolare la legge. Cioè, questa è una cosa che dovrebbe rappresentare un problema nella legge italiana. Cioè, l'Italia, in generale, gli enti che sono sopra la figicida, vorrebbero chiedere spiegazioni, perché non è possibile che un organismo, che un istituto del genere vada ad ostacolare il processo di legge. Sono finiti i tempi di calciopoli, all'interno dei quali facevate quello che volete. Voi dovete cacciare i documenti e li dovete cacciare subito. Punto. Li dovete cacciare subito, questi documenti. Perché è veramente vergognoso che ci siano delle persone che si trovano all'interno di una polemica così grande che non hanno neanche la possibilità di accedere a dei documenti facevoli perché voi negate l'accesso. Ma stiamo scherzando? Ragazzi, ma siamo in un paese civile oppure qui veramente abbiamo dimenticato?